Perché accumula dati pure lui, no? Comunque li usa, non so, dal punto di vista... Ma no, volevo dare una notizia incoraggiante a Pepper, a Nao, a Romeo, ad Animal. Il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione per dare ai robot lo status di persona. Ah sì? E quindi, diciamo, per chiarire, anche per quello che ci diceva la professoressa, non ha anche dei diritti, ma anche dei doveri, quindi quando sono responsabili, se sono responsabili chi li ha programmati, o se sono responsabili insieme i robot, chi li ha programmati, o solo i robot. C'è un rovescio della medaglia in tutto questo, perché questo è il futuro, e che nel frattempo tutti noi siamo trasformati in robot che forniamo informazioni. Quindi siamo trattati forse peggio del loro. Il diritto alla cittadinanza, c'è stato già anche un caso anche in Arabia Saudita.